Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatoi. Adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Maria, regina dei matti, di rinno e pregata di noi. Buongiorno. Allora, a me in grado di fondo di aprire questa giornata, in realtà, avevo chiesto io di perdere due minuti prima di iniziare le fassi del sorteggio, motivo per il quale siamo tutti quanti qua. La Madre di Dio di Moffetta è composta da 44 motopeschi, iscritti ad oggi, forse la settimana prossima, sono 45. A cui 28, quelli che comunemente chiamiamo della Grande Pesca, e 16 della Piccola Pesca. Potrebbero essere tantissime le cose che vorrei dire, ma che per la gioia che in questo momento portano i cuori di chi crede, in questa pesta non deve essere minimamente intaccata da nessuna cosa negativa. Quindi, è bello ringraziare Padre Nicola, è bello ringraziare a nome del Presidente e tutto il Comitato, che Vincenzo, Padre Nicola non lo sa, ma Vincenzo sì, di quanto queste due settimane sono state atroci e difficili. Però, quando racconto le attenzioni dei tre armatori, che ho detto sì, uno dei quali è titolare di due pescheleggi, ho ricordato l'impegno preso l'anno scorso, nell'altra sala, era l'anno scorso, e quell'impegno in parte lo abbiamo mantenuto, non so chi era presente lui, l'anno scorso avevamo preso l'impegno che di riportare la saga armare anche alle partecipazioni delle parche della piccola pesca. Questo impegno lo abbiamo mantenuto, sarà difficile, complicato, ma sarà realizzato. E quindi un grande ritorno al passato, un passato glorioso anche di questa festa. Quindi quando alla domanda che abbiamo fatto io e un rappresentante degli armatori inserito nel comitato di feste patronali che è qui presente, nonché il mio cugino che si chiama come me, abbiamo fatto la domanda singolarmente, così come l'abbiamo fatta a tutti, vuoi partecipare al sorteggio? Quando ci è stato detto sì, anzi, in un caso non abbiamo fatto nulla domanda, ma ci è stato chiesto di voler partecipare al sorteggio con l'intenzione di portare anche la valore. e quindi tutte le pagine, le decine di pagine che avevo scritto e che erano stampate la mia mente sono state strappate tutte e con la gioia nel cuore annuncio che al sorteggio partecipano il motopesca madonna dei martiri secondo il motopesca santa maria e figli primo il motopesca paolo padre e il motopesca santa maria e figli secondo a questi va tutto, tutto, tutto il mio grande augurio di cuore grazie a chi ha dato la sua disponibilità è un gesto molto bello, no? ma soprattutto che appartiene alla tradizione di una città una tradizione che va tramandata di generazione in generazione perché è chiaro che ogni passare degli anni il rischio quando non si tramandano le cose che le cose si spengono per cui, proprio perché la madonna ha questo stile anche di essere accolta ma soprattutto uno stile di accoglienza e di incontro una madonna che viene accolta sui motopesca reggi sa significare davvero tanto una famiglia che accoglie, apre le porte a Maria significa apre le porte ad una donna, ad una madre e si prende cura dei suoi figli per cui, ecco, ci auguriamo che con il tempo davvero possa continuare sempre al meglio questa realtà della Sacra Mane perché appartiene alla tradizione di questo popolo e deve necessariamente essere trasmessa e quindi, ecco, davvero grazie a chi ancora ha dato la sua disponibilità e prima di procedere al sorteggio ecco, lascio la parola a Vincenzo Germilano il Presidente del Comitato per Stefano Buongiorno a tutti io, non come Presidente del Comitato ma amico di un gruppo gli amici che cerchiamo di organizzare al meglio la festa della Madonna di Marti e anche quello di San Gorgano io devo prima ringraziare il Presidente del Toro che ci riuscita sempre in questa bella sala così climatizzati e quello che non andremo via qua prima della terra di Fomento perché si sta benissimo poi devo ringraziare veramente il primo perché in questi giorni ho visto veramente il suo impegno la sua difficoltà nel trovare e nel fare il suo lavoro io credo che noi a Molfetta abbiamo un privilegio il privilegio di essere fortunati ad avere la Madonna dei Marti qui a Molfetta i nostri parenti e amici che stanno in tutto il mondo Australia, America, Venezuela, Argentina in questi giorni mandano decine di telefonate e di auguri fin quando riusciamo a fare una bellissima festa loro verranno qui a Molfetta forse in secondo piano per vedere i parenti ma principalmente per vedere la Madonna dei Marti noi abbiamo loro il dovere per i nostri migliori del mondo far sì che la festa Madonna dei Marti sia fatta bene io ringrazio Mimmo l'associazione della Madonna dei Marti e sicuramente con un po' di fortuna riusciamo sempre a riuscirne da situazioni difficili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 il giro dei motopescherecci con la benedizione abbiamo fatto il giro dei motopescherecci con la benedizione, abbiamo incontrato ecco la benedizione non voleva essere un alto scaramantico ma voleva essere un segno di presenza, un Dio che benedice cioè che dice bene e allora quel dire bene vogliamo portarcelo avanti nella storia ma soprattutto viviamo davvero quella festa con la consapevolezza che la madonna dei matri è la nostra madre auguri, davvero buon cammino a tutti buona festa partenale ricordo che quando è il prossimo qui sempre in questa sala subito alle 19.45 avrà nuovo la presentazione del programma della festa per cui siamo tutti invitati a partecipare lascio la paola a un'altra come si può ben capire la barche estratta è abbastanza piccola e saranno altrettanto piccole le barche che accompagneranno le amigelle quindi le modalità di allestimento saranno sicuramente adeguate alla grandezza delle barche questo non vuol dire che non possono portare quindi colgo qui l'occasione per prendere un altro impegno se sarò ancora vivo entro l'anno prossimo Vincenzo Padre Nicola e l'amministrazione comunale e l'organo competente della Guardia Tossiera nonché la Cuglia dobbiamo necessariamente saperci riscrivere quelle che sono le regole di questa festa correggere e attuare attualizzare molte cose che oggi vedono rende il grande pericolo che questa festa possa non a venire più per quest'anno siamo riusciti a portare in porto la barca come si può dire e l'anno prossimo ho buonissime speranze sono anche contento di questa speranza però le regole Vincenzo vanno distinte vi do ufficialmente il compito di riunire questo capo quando vorrei ottobre novembre dicembre ma non più tardi di gennaio perché è necessario assolutamente riscrivere alcune piccole applausi io accetto volentieri il dito anche perché questo comitato è nato per dare dei cambiamenti i cambiamenti è chiaro che bisogna studiare e capire dove possiamo migliorare però è bello che ci siano dei cambiamenti dobbiamo recuperarci noi sicuramente noi del comitato volentieri ci diremo per scambiare io sono comune che l'anno prossimo avremo per pochi mesi fra l'icolo dovremmo inventarci qualche domenica ci sarò ci sarò ci sarò il ringrazio a tutti i colori che sono qui presenti ragazzi noi adesso parlo per il mio piccolo comitato tra dieci minuti cominciamo a lavorare e abbandonare un po' le spianche perché c'è molto da fare grazie a voi grazie a tutti grazie e vi torna ci mettiamo in piedi per ricevere la benedizione e vogliamo estendere questa benedizione per coloro che ci seguono in diretta streaming perché è andato in diretta streaming questo sorteggio sulla pagina sia del comitato che della basilica quindi sicuramente immagino che siano tanti quelli che ci hanno seguito e soprattutto davvero che questa benedizione possa estendersi a chiunque il signore sia o voi e per intercessione della beata vergine maria regina dei mantri il signore di benedica nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amo buona domenica a tutti auguri ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti